A questo punto cedo senza altro la parola a Salvatore Settis, accademico dei lincei, insomma in signe studiose già ricordato la sua formazione archeologica. Una grande voce di riflessione insomma nell'Italia contemporanea soprattutto sulla storia della cultura. Grazie mille, per qualche ragione anche io preferisco parlare in piedi, deve essere un vizio da normalisti, non so. Io vorrei ringraziare chi ha organizzato questa giornata, chi l'ha organizzata in questo luogo, il Comune di Roma che ce l'ha concesso e soprattutto voi che siete qui, che ci ascoltate, e che ci ascoltate in modo partecipato e che certamente avete altrettanto da dire quanto ciascuno di noi. Vorrei partire da una domanda, che cosa ha a che fare lo scopo istituzionale di emergenza cultura con la riforma della Costituzione? Sono due cose diverse che non hanno nulla a che fare l'una con l'altra o no? Io credo che la riforma costituzionale, di cui qualcosa fra poco dirò, e tutto quello che sta accadendo nel campo dei beni culturali per una serie di riforme ministeriali abbiano molto in comune. Sono molto simili perché hanno un simile indirizzo, un simile scopo, e ne parlerò, perché hanno un simile metodo. Il metodo simile ha due punti simili che vorrei menzionare. Uno è la gradualità. Si fanno le cose a poco a poco, si comincia con quelle che qualcuno può accettare e poi si va avanti. Ricordiamoci che se vince il sì siamo solo al principio. Non è questa la Costituzione che vogliono, neanche con le loro riforme. Ne vogliono una ancora molto peggiore, in cui l'incisività delle trasformazioni della seconda parte, sulla prima, e in particolare sui principi fondamentali, può diventare molto più esplicita. Per il momento mettono in soffitta i dodici principi fondamentali della Costituzione. Dopo non si limiteranno a metterla in soffitta, ma ne faranno polvere. Ricordiamoci che cosa scrive in merito uno che di politica se ne intendeva. Si chiama Aristotele. Nella politica, Aristotele quando parla delle Costituzioni delle città, dice attenti quando si cambia una Costituzione. Perché di solito il cambiamento di una Costituzione prelude ad altri cambiamenti nella stessa direzione. State attenti perché... E prima di scrivere il suo famoso trattato, che poi la fondazione, l'uso, la ragione per cui noi usiamo la parola politica oggi, Aristotele fece una cosa molto significativa. Con la sua scuola fece una raccolta di Costituzioni. Raccolsero 168 Costituzioni di 168 città greche. Si è conservata soltanto su un papiro, anzi su due, la Costituzione degli Ateniesi, in parte. Scritta forse dallo stesso Aristotele e forse dei suoi scolari. Perché ricordo questo? Perché faccio il classicista? No. Perché la stessa cosa qualcun altro l'ha fatta. Si chiamava Assemblea Costituente. Su proposta di Giorgio Lapira, l'Assemblea Costituente, prima di deliberare, di discutere la nostra Costituzione, la sola che abbiamo, decise di raccogliere tutte le Costituzioni del mondo. Nel 1946, in un'Italia poverissima, esistono poche copie, credo, in giro di questa raccolta su carta che si fa fra le mani se si prova a leggere. Ce n'è una copia anche a Pisa. Perché i Costituenti del 1946-47 studiavano prima di fare la Costituzione. Sembrerà strano, ma loro sì. E c'erano molte ragioni per cui studiavano. Ne ricordo due. Studiavano perché uscivano, perché l'Italia usciva dalle macerie di una guerra e del fascismo. Studiavano perché erano stati eletti per fare la Costituzione. Non si erano arrogati il diritto di fare, di scrivere la Costituzione, come ha fatto questo governo, prima ancora che questo Parlamento. L'altro punto in cui la riforma del Ministero dei beni culturali e la riforma della Costituzione seguono il medesimo metodo è lo storytelling. Raccontare delle storie. Si può chiamare Pinocchio, le avrebbe chiamate bugie. Chiamiamolo storytelling, ma è la stessa cosa. Raccontare una storia per non dire la verità. Che cosa sta accadendo ai beni culturali dunque? Come si risponde, come si sta rispondendo alle grandi sfide globali che sono state delineate in modo molto interessante dall'assessore Bergamo poco fa? Io vorrei allargare per un momento lo sguardo, prima di tornare a noi. Allargare lo sguardo perché mi pare che ci sia un grande processo mondiale del quale l'Italia è naturalmente parte e del quale ci rendiamo conto fino a un certo punto. Ci sono molti storici dell'arte, archeologi nella stanza. Noi studiamo, noi andiamo negli archivi, noi guardiamo i quadri, guardiamo... Che cosa facciamo con la nostra ricerca? Creiamo valore oppure aggiungiamo valore a quello che scriviamo, a quello che c'è già, a quello che può essere possesso pubblico o privato, ma in qualche modo è sempre possesso pubblico. Creiamo valore. Ma questo valore, quasi immediatamente, questo è il grande processo di cui parlo, viene commercializzato, mercificato, usato per scopi puramente economici. E' quello che un gruppo di antropologi sociali che lavora ad Amsterdam ha chiamato con una parola che non mi piace, ma che è heritagization, cioè la patrimonializzazione. Patrimonializzando, e questo può essere vero di un museo come di una città, patrimonializzando, viene di fatto privatizzata. La patrimonializzazione e la privatizzazione sono la stessa cosa. Il più massiccio fenomeno in questo senso è il cosiddetto recupero dei centri storici che spesso consiste o include l'espulsione dai centri storici delle persone che ci abitavano per fare quello che si chiama ormai gentrification. Questo è un grande fenomeno mondiale. Lo svuotamento delle città e lo svuotamento della proprietà pubblica dei beni culturali. L'insidioso punto di tutta questa storia è che chi difende la proprietà pubblica dei beni culturali e chi la attacca e la privatizza in nome della patrimonializzazione usano esattamente, usiamo esattamente le stesse parole. Esattamente, dobbiamo smontare il linguaggio, rifare il linguaggio, trovare un linguaggio nuovo per capire chi è che ci sta borseggiando e come possiamo difenderci dai ladri di patrimonio. La riforma del Ministero dei beni culturali a cui stiamo assistendo risponde a questi criteri generali, a questi criteri di borseggiamento dei cittadini. La riforma Franceschini accoglie passivamente, esperimenta in modo avanzato, per così dire, gli aspetti più sciatti, più negativi di questo graduale dispossessamento dei cittadini. E come lo ha fatto? L'ho fatto gradualmente. Prima dicendo valorizziamo i musei e chi non vuole valorizzare i musei? Poi, trasformando questa maggior valorizzazione dei musei, non voglio entrare nel merito di quella riforma, mi può piacere e quello che no, ma trasformando questa riforma in un svuotamento delle soprintendenze, in un trasferimento di competenze, di persone, in un continuo spacchettamento. Ora pare che anche la soprintendenza di Roma possa essere spacchettata in pezzettini, per cui il Colosseo da una parte, la via Apia da un'altra, eccetera, eccetera, perché non si possono tenere più le cose insieme. E come se, è una frase che ho usato e che mi viene attribuita, ma in realtà dipende da un funzionario dell'amministrazione pubblica che l'ha usata in un'email che ho avuto la fortuna di vedere, è come se il ministro ci stesse dicendo che esiste, come le banche, una bad company, che sono le soprintendenze, da chiudere gradualmente, e una good company, che sono i musei. Questo sta comportando una riduzione continua della tutela che è sotto i nostri occhi, una riduzione che dobbiamo ringraziare la signora Boschi, perché essendo forse meno furba del suo Presidente del Consiglio, ce lo ha detto in modo molto più chiaro di quanto non abbia mai fatto Franceschini o Renzi. e ci ha detto che le soprintendenze vanno abolite perché su questo Renzi e Tosi si sono sempre trovati, parlo di Tosi, il sindaco di Verona, si sono sempre trovati d'accordo, si sono trovati d'accordo anche recentemente sul fatto che le soprintendenze sono burocratiche. Invece mettendole sotto i prefetti non sono più burocratiche, cioè i prefetti non sono burocrati, mentre un archeologo, uno storico dell'arte è un burocratio. E questo secondo la concezione del nostro Presidente del Consiglio. Questo si chiama storytelling, ma si può chiamare anche bugia, si può chiamare anche menzogna, si può chiamare anche capovolgimento della verità. Il senso che io ho capito di emergenza cultura, è la prima volta per ragioni private che alcuni di voi conoscono che posso partecipare di persona a una manifestazione di emergenza cultura, io ho capito il senso di questo gruppo di persone che ancora credono nella Costituzione e nel futuro di questo Paese e nel nostro dovere di lasciare un'eredità alle generazioni future. Io credo che il significato sia di intendere il messaggio che i Costituenti ci hanno lasciato attraverso l'articolo 9 e di intenderlo non come se la Costituzione fosse una collana di perle della nonna che nei momenti di difficoltà si può anche ridurre. Uno vende quattro di quelle perle, se la collana è molto buona può mettere a posto, che so io, un piccolo debito e la collana non si vede più che non ci sono quelle quattro perle. La Costituzione non è una collana di perle, non è un rosario di singole cose che si possono prendere a una a una. La nostra Costituzione è un'architettura di valori, di significati, di principi. Nel nostro articolo 9 c'è molto altro, c'è l'articolo 1, lo ha già ricordato Tommaso Montanari, c'è anche l'articolo 4 sul diritto al lavoro, perché anche gli archeologi e gli storici dell'arte hanno il diritto di lavorare. Ce lo stiamo dimenticando. Hanno il diritto di lavorare e nel 38% di disoccupazione giovanile che il nostro Paese, nonostante tutti gli storytelling contrari del Presidente del Consiglio, vanta, se è un vanto, avere il 38% di disoccupazione giovanile contro il 22% della media europea, una media che include la Grecia, Cipro, eccetera, in quel 38% un pezzo non secondario è fatto di storici dell'arte, di archeologi, di persone serie che vorrebbero lavorare e che se vogliono veramente lavorare devono emigrare. Questo è quello che il nostro Paese ci dice adesso. Allora io credo che se noi vediamo l'articolo 9 con il diritto alla cultura che esso comporta, in relazione con gli altri articoli. Dobbiamo vederlo anche in relazione con gli articoli che parlano di lavoro, con gli articoli che parlano di economia. Aveva ragione a suo modo il Ministro Franceschini quando diceva che il Ministero dei beni culturali è anche un ministero economico. Ma non nel senso che gli debba svendere i beni culturali, nel senso che deve capire e far capire ai cittadini, e non lo sta facendo, che la nostra ricchezza culturale è un motivo di orgoglio che deve dare a ciascun cittadino più forza per lavorare nel proprio mestiere, anche se fa il farmacista, anche se fa il fabbro, anche se fa l'operaio o il contadino. Perché il patrimonio non è degli storici dell'arte e degli archeologi, meno che mai degli onorevoli e dei senatori vecchi e nuovi, il nostro patrimonio è di tutti. Allora se noi pensiamo agli articoli della Costituzione che parlano di lavoro, ho citato l'articolo 4, ma già l'articolo 1 parla di lavoro, se noi leggiamo Costituzione coerentemente vediamo che il protagonista della Costituzione è il popolo, ma è un popolo fatto di cittadini che sono contemporaneamente lavoratori. Ed ecco perché gli articoli poi più della parte economica della Costituzione, l'articolo 41, 42, 43 eccetera, parlano dell'economia del Paese usando l'utilità pubblica come un limite alla proprietà privata, all'imprenditoria e così via. Il lavoro e l'economia vanno insieme, perciò l'abolizione del CNEL non è, come alcuni credono, una cosa che era veramente indispensabile. Perché il Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro, voluto dai costituenti del 46-47, si collegava a un'idea di economia e un'idea di lavoro che è quella di quella Costituzione, non di questi qua. E' vero che il Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro è stato progressivamente svuotato, è vero che ultimamente non ha prodotto nulla, ma anziché farlo rinascere lo si abolisce come se fosse un ferro vecchio. Che cosa comporta questa riforma costituzionale e mi avvio a concludere rispetto a questi temi? Comporta una riduzione della sovranità popolare perché ci sottrae il nostro patrimonio, impedendone la tutela o come minimo riducendone la tutela. Ci sottrae la nostra capacità di far leva sul nostro patrimonio, sul nostro paesaggio dal punto di vista dell'economia e dal punto di vista del lavoro, ci sottrae anche quella dialettica fra il centro e la periferia che non ha mai funzionato. E noi questo lo sappiamo, nessuno saprà che cosa sarebbe successo se le regioni a statuto ordinario fossero partite veramente nel 49, 50, 48. Abbiamo aspettato troppo per realizzarle, abbiamo aspettato fino agli anni 70 e intanto si svolgevano e si sviluppavano le regioni a statuto speciale, che ora con questa nuova riforma costituzionale non solo non si avvicinano alle regioni a statuto ordinario, ma si allontanano. Avremo veramente due Italie, le regioni a statuto ordinario, comprese le due province autonome del Trentino e dell'Alto Adige e le regioni a statuto ordinario. L'articolo 117, che è quello centrale del titolo quinto della Costituzione, è stato profondamente modificato, come tutti sappiamo, da una cattiva riforma del 2001. Una riforma costituzionale voluta da un governo di centro-sinistra, approvata, se ricordo bene, con due voti di maggioranza, mossa molto sbagliata, perché da quella nasce, da quell'idea fatta da un governo di centro-sinistra, nascono poi le altre derive. La prima, la riforma Bossi-Berlusconi del 2005, che nel 2006 bocciamo noi con 16 milioni di no, e io spero che ce ne siano altre tanti quest'anno, e poi la riforma di quest'anno. Una sola citazione dall'articolo 117. Ci è stato spiegato lungamente che c'erano troppi conflitti, che ci sono troppi conflitti davanti alla Corte Costituzionale fra Stato e regioni per una serie di cose che vanno dalla sanità alla cultura. E in particolare per la cultura ci è stato spiegato che ci sono state moltissime ragioni di conflitto e moltissime sentenze della Corte Costituzionale che riguardano il conflitto Stato-Regioni su questo tema. Questo conflitto è basato, il fatto che ci siano state moltissime sentenze e moltissimi conflitti è vero. Questo conflitto si basa sul fatto che il titolo V del 2001 assegna fondamentalmente la tutela allo Stato, non poteva fare altrimenti perché nell'articolo 9 c'è scritto qualcosa di inequivoco da questo punto di vista, e la valorizzazione è assegnata fondamentalmente alle regioni. Dunque decine di conflitti, centinaia di conflitti per definire dov'è la linea di confine fra tutela e valorizzazione. La linea di confine è completamente impossibile perché come sa chiunque lavori in un museo o in una soprintendenza, in Italia o all'estero, la tutela, la valorizzazione, la fruizione, la gestione dei beni culturali sono parti non segmentabili di un processo unico, tant'è vero che la nozione di valorizzazione all'italiana non ce l'ha proprio nessuno, è una bestialità che abbiamo purtroppo inserito in Costituzione nel 2001. Allora ci dicono, pretendono ora che la nuova riforma costituzionale ponga fine a questo conflitto, in questo e in altri ambiti. Io parlerò solo di questo dato il contesto in cui oggi ci troviamo. E' vero che nell'articolo 117, mi pare lettera S, la tutela e la valorizzazione vengono riunificate mettendole entrambe in capo allo Stato. Lasciamo perdere se è giusto o se non è giusto che sia tutto in capo allo Stato, che le regioni non contano più. Non vorrei neanche parlare di questo adesso. Vorrei solo invitare chi di voi sia caduto in questa trappola ad andare avanti di qualche altra lettera, di qualche altra riga nell'articolo 117. Le varie lettere dell'alfabeto proseguono fino alla lettera Z, poi hanno finito l'alfabeto. Penso che se avessero usato l'alfabeto armeno potevano andare più in fondo perché è più lungo del nostro. Comunque dopo la lettera Z ci sono delle altre righe, nelle quali si dice fra l'altro che la promozione dei beni culturali spetta alle regioni. Allora, se fu difficile e ci vollero decine, se non centinaia di sentenze della Corte Costituzionale, per definire l'impossibile linea di confine fra tutela e valorizzazione, chi mai, nemmeno l'Accademia della Crusca, ci potrà spiegare la differenza fra valorizzazione e promozione. Dunque la stessa conflittualità si trasferisce lì. E chiediamoci, allora è come prima? No, è peggio di prima. Perché finché i conflitti sono fra tutela e valorizzazione, almeno c'è la giurisprudenza della Corte a cui si può fare appello. Ogni volta che sorgesse di nuovo un conflitto come quello, la Corte Costituzionale può citare con eleganza, con grazia, ma anche un po' pigramente, le sue 14.000 sentenze che ha già fatto sul tema. Ma spostando l'attenzione alla ancora più impossibile linea di confine fra valorizzazione e promozione, si apre una nuova stagione per cui tutto andrà infinitamente più lentamente. In questa Costituzione in cui vogliono abolire gli elettori, perché noi non eleggiamo più il Senato, noi non eleggiamo più i Consigli provinciali, ma resiste il Prefetto perché non è un burocrate, come è noto, e perché non dipende dal Ministero dell'Interno, come è noto. In questo contesto anche la distanza fra i cittadini e lo Stato e l'amministrazione pubblica cresce dunque anche in questo ambito e perché, chiediamoci il perché, ed è su questo punto che vorrei concludere. Per quale ragione? Per quale ragione questo Presidente del Consiglio ha proclamato al principio del suo governo che il suo sarebbe stato un governo costituente. Governo costituente è una bestemmia costituzionale. È una bestemmia costituzionale. Citerò una cosa che ormai ha fatto molto il giro di tutti, e citerò le famose frasi di Piero Calamandrei quando diceva quando si parla di Costituzione i banchi del governo devono essere vuoti. È il Parlamento che fa la Costituzione. Invece noi abbiamo il primo firmatario di questa riforma costituzionale che non è nemmeno un parlamentare. Si può negare? Il primo firmatario si chiama Matteo Renzi. È stato eletto al Parlamento? Non mi risulta. È illegale quello che ha fatto? No. È immorale? Sì. Questo è quello che penso io. Allora, quali sono le ragioni? Le ragioni le andiamo a leggere. Non leggiamo soltanto i 47 articoli modificati da questa riforma contro, lo ricordo, 43 articoli modificati in 68 anni di storia repubblicana, contro 27 emendamenti in tutto della Costituzione americana in 220 anni, di cui 10 approvati tutti insieme. e ci vengono a dire, altro caso di storytelling, cioè di bugie, che la Costituzione italiana non cambia mai. La Costituzione italiana è una di quelle che cambiano più spesso. Leggiamo anche la relazione preliminare, dove la prima firma è quella di Matteo Renzi, seguito dalla signora Boschi, eccetera. Perché cambia? Per quale ragione bisogna cambiare la Costituzione? Per una, leggo, analisi ormai largamente condivisa delle cause e dei problemi del nostro sistema politico istituzionale. E in questa analisi vengono elencate puntualmente quattro ragioni che si possono raggruppare a due a due. La prima è l'esigenza di adeguare l'ordinamento interno alla recente evoluzione della governance economica europea e alle relative stringenti regole di bilancio. Traduciamo. La terza e la quarta ragione sono di natura simile l'elevata conflittualità fra i diversi livelli di governo e la cronica debolezza degli esecutivi. Guarda caso, si tratta delle stesse analisi che sono state prodotte dal famoso documento della J.P. Morgan, già citato da Tommaso prima, un documento citato, un documento della J.P. Morgan che io non credo che il nostro governo abbia copiato dalla J.P. Morgan. Credo che hanno la stessa visione del mondo. Una visione del mondo in cui la politica deve oliare i binari per la finanza e per l'economia. Questa è la funzione dei politici. Essere dei servi della finanza e dell'economia ed essere dei padroni rispetto ai cittadini. Impedire ai cittadini di pronunciarsi per poter servire meglio. la finanza. Questa convergenza però è significativa, la convergenza con J.P. Morgan, perché J.P. Morgan, questo ce lo ricordiamo meno di frequente, J.P. Morgan sei mesi dopo avere scritto e diffuso quel documento che è ancora impudicamente online e che chiunque può quindi verificare, sei mesi dopo J.P. Morgan ammise di aver truffato i propri clienti e pagò al tesoro americano 13 miliardi di dollari di multa per aver venduto prodotti finanziari inquinati. A questi stiamo consegnando il Monte dei Paschi. A questi stiamo consegnando il Monte dei Paschi. Noi non vogliamo la svendita del nostro patrimonio culturale, noi non vogliamo la svendita del nostro Paese, noi non vogliamo che prevalgano gli interessi di chi vuole schiacciare, ridurre la sovranità popolare, di chi vuole eliminare il più possibile gli elettori, di chi vuole metterci al margine. Noi vogliamo che resti in vigore questa Costituzione finché non sapremo scriverne davvero una migliore. Questa riforma è pessima, votiamo no. Grazie a tutti.